Di nuovo buongiorno, seconda parte del nostro Tg Mattina, ripartiamo con la rassegna dai quotidiani calabresi oggi in edicola e in particolare dal garantista che dedica un ampio servizio a firma di Aldo Varano alle parole pronunciate dal governatore Oliverio alla festa del Partito Democratico Regino svoltosi a Caolonia, il governatore ha chiuso con il suo discorso e parlando dei rapporti in particolare tra il governo regionale e il governo nazionale, non possiamo non sentirci renziani, caro Oliverio, i crodus ixalta, in sostanza una locuzione latina che vuol dire caro Oliverio adesso dimostraci ora e subito quello che stai dicendo, a modificare in profondità scrive nel sommario di questo commento di Aldo Varano l'equilibrio dentro il Partito Democratico, la vecchia ostile convivenza tra ex DC e PC ed anche il suo rapporto con l'ulivismo, centro e radicalismi vari è stata senz'altro l'implosione senza precedenti della centrodestra ed è questo il punto di partenza di una riflessione che tocca tutta la politica italiana di ogni colore e appartenenza ed è un lungo commento diviso in sei punti quello che viene redatto appunto da Aldo Varano. La sezione Calabria del garantista, Movimento 5 Stelle è iniziato l'assedio al fortino del potere, cambio di strategia dei crellini verso una regione che finora il direttore aveva apertamente snobbato sul palco a Catanzaro davanti a sostenitori provenienti da ogni territorio, il gota parlamentare si candida alla conquista del palazzo ed eccoli alcuni dei big del Movimento 5 Stelle ieri a Catanzaro ed ecco invece la parlamentare calabrese Dalila Nesci. Il caso Forza Italia, le nomine della Santelli non convincono tutti, molte le contestazioni da ogni territorio mentre Salerno vola a Roma per discutere con i dirigenti. Il caso, Tallini coordinatore a Catanzaro risulta iscritto al gruppo misto. Andiamo avanti, Oliverio a dicembre patto per la Calabria con il Premier Renzi, adesso abbiamo rimesso il treno sui binari, ci sono le condizioni per fare bene, se falliremo non possiamo scaricare. Responsabilità. L'assessore Federica Roccisano, assessore al lavoro, istruzione di studenti raccontano Roccisano i loro disagi. Dalla Sicilia, nononevole Garofalo di Aereo Popolare sostiene ponte opera necessaria, invece dalla Basilicata la corazza del Partito Democratico, referendum sulle trivelle, niente vuoti normativi. Ancora il garantista, il caso Rimborsopoli, le ragioni del riesame su Tripodi, il TDL annullò solo in parte il sequestro, astrattamente configurabili i delitti di peculato contestati. E ancora Rimborsopoli 2, rigettata la richiesta di archiviazione per i sei indagati. Si tratta di sei figure coinvolte nell'inchiesta sulle spese pazze dei gruppi consigliari per i quali la Procura aveva chiesto l'archiviazione ma ha rigettato. Le posizioni per cui la Procura Regina non aveva ravvisato elementi per disporre un processo erano quelle di Vincenzo Ciconte, Gian Paolo Chiappetta, Alessandro Nicolò, Rosario Mirabelli, Antonio Raso e Candeloro in Balzano. Tra questi, come ricorderete, Gian Paolo Chiappetta, le contestazioni iniziali mosse dai magistrati sono completamente ribaltate, in particolare di fronte al GIP che aveva invece riconosciuto il suo ruolo virtuoso nel contenere le spese non solo proprie ma anche dei colleghi del gruppo consigliare di appartenenza. Gian Paolo Chiappetta, come sapete, non è più consigliere regionale comunque sia. La denuncia, SEL, il piano di rientro taglia i farmaci, salva vita e poi barbanti a scura, riorganizzare gli ospedali, sì ma con criteri omogenei. Andiamo ancora avanti con il garantista e con la notizia relativa al maxi sequestro avvenuto nei confronti della Cosca Giampa e dei propri prestanome. Si tratta dei beni di Francesco Giampa, ovvero il professore, il nucleo familiare dello storico Bostiglia Mezza dichiarava redditi per poco più di 140 euro mensili. In pratica nulla tenenti, in realtà detentori di un vero e proprio impero. E poi spara contro l'ex moglie, un caso di cronaca che viene da Reggio Calabria. Tragedia sfiorata dopo i litigi colpi d'arma da fuoco, in auto c'era il figlioletto. E poi condizioni di salute compatibili. Antonio Mancuso resta in carcere. L'incipit di questo servizio, anche Antonio Mancuso, fratello di Luni Veterinetto, dovrà rimanere in carcere. L'istanza di scarcerazione per motivi di salute presentata dall'Avvocato Stile al Tribunale collegiale di Vibo Valenza è stata infatti rigettata. Il 77enne, considerato uno dei capi storici della potente famiglia di Indranghete, noto ai più semplicemente come Zintoni, si trova attualmente recluso nel carcere di opera. Ancora notizie di cronaca. Tropea si mette alla guida ubriaca e si ribalta con l'auto, denunciata. Ancora Cropani litiga con il vicino di casa e ferisce. Ha fucilato il cane. Ultima notizia dal garantista, tuvo fallo americano, dove vanno i calabressi di oggi con valigia e iPad. Ecco il dossier del rapporto Migrantes che delinea l'identikit di chi vuole lasciare la propria terra per cercare fortuna altrove. La nostra regione è al quarto posto con quasi 400.000 persone che hanno trasferito la loro residenza all'estero, mete preferite Argentina e Germania, dice il rapporto Migrantes. E prima di cambiare giornale, ecco la nostra rubrica dedicata al Santo del Giorno. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Maria Vergine del Rosario. In questo giorno con la preghiera del Rosario o Corona Mariana si invoca la protezione della Santa Madre di Dio per meditare sui misteri di Cristo sotto la guida di lei che fu associata in modo tutto speciale all'incarnazione, passione e risurrezione del figlio di Dio. Primi piani del quotidiano del Sud. Trebisacce, il caso a Palazzo Chigi, presentata, pronta la nomina del commissario ad acta per ottemperare la sentenza del Consiglio di Stato, che Scura intende ignorare. Ieri mattina la comunicazione al Ministro della Salute per trovare una soluzione. Il caso, Barbanti, Benescura, se cambia la rete ospedaliera, ma i criteri siano trasparenti e a piedi pagina ci sarà un decreto per consentire l'autorizzazione al Marrelli Hospital, la riunione al Ministero della Regione e la struttura commissariale. Poi Forza Italia è divisa sulle nomine, Berlusconi avvia il confronto con gli amministratori del Mezzogiorno, i nuovi incarichi distribuiti dalla Santelli, fanno registrare altre defezioni su garanzia giovani, altri 1.400 tirocini. L'immigrazione è catombe nel Mediterraneo. Gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione Internazionale delle Immigrazioni sono un vero e proprio bollettino di guerra. Un centinaio di vittime nelle ultime 48 ore a largo delle coste della Libia. Ricordiamo che ieri c'è stato un nuovo sbarco a Reggio Calabria e, come riporta stamattina il Quotidiano del Sud, attesi per oggi altri 470 profughi a Vibo Valencia, proprio in questo momento gli sbarchi. L'intervista importante di Pasquale Violi a Vincenzo Speziali, l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta Breakfast, persecuzione giudiziaria, dice il nipote dell'ex senatore omonimo, lo sfogo. L'inchiesta è basata su atti e dubbi dei funzionari dello Stato. E ancora, inchiesta Breakfast, da Beirut parla Vincenzo Speziali e finirono i guai con Scaiola e Matacena. Ed eccolo insieme all'ex presidente Amin Gemayel, l'ex presidente appunto libanese. Ed ecco ancora, questa è una foto molto molto eloquente per comprendere il calibro del personaggio. Ecco Giulio Andreotti con Amin Gemayel e Speziali. Tutti a Palazzo Giustiniani. Ecco di chi stiamo parlando. Andiamo avanti. La sezione Calabria del Quotidiano del Sud. Sigilli ai beni dei capi del clan. Contestato anche un episodio di estorsione. Nei guai due prestanome, ville e palazzine sequestrati al capo della Cosca Giampà e al cognato Boss. Ancora la mezzaterme informò i killer con un sms condannato con 28 anni. Il PM aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato e Antonio Vinci. Si tratta coinvolto nell'omicidio di Francesco Torcasio, un omicidio che fu realizzato su ordine appunto del boss Giuseppe, l'ex boss Giuseppe Giampà, oggi pentito eccellente e figlio di Francesco il professore a cui ieri la Guardia di Finanza ha sequestrato un ingente patrimonio. Domiciliari negati, Antonio Mancuso, l'abbiamo visto anche dal garantista, il boss continuerà la propria detenzione nel carcere di Opera a Milano. I giorni scorsi la stessa decisione per il fratello Pantaleone, poi deceduto sabato, ieri funerali all'alba. Scomparso da dieci giorni e il secondo, da inizio anno, il 71enne è imparentato con la cosca Alvaro, una scomparsa che viene da Sinopoli, l'imprenditore di libertà, la DDA ricorre al riesame. Il GIP aveva revocato i domiciliari, il ricorso della procura e avverso la scarcerazione di Francesco Perri, il patron del centro commerciale Due Mari di La Mezzia Terme e andiamo ancora avanti. Le nuove scommesse di Slow Food, nostro compito è promuovere l'identità del prodotto legato al territorio. Carpino, docente all'agraria e il nuovo responsabile regionale dei presidi. Scendiamo nelle cronache regionali, ripartiamo da Vibo Valencia che dedica ampio spazio alla cerimonia di giuramento degli allievi agenti di polizia, alla scuola di polizia, ospite d'eccezione il vice capo vicario della polizia, appunto Marangoni, che dice la scuola allievi agenti non chiuderà. Sono quasi 200 gli agenti in prova che hanno pestato giuramento solenne appunto di fronte a Marangoni. Eccolo che consegna tra l'altro le onorificenze. Eccolo insieme al prefetto Bruno e al questore poi Bonfiglio. Un momento della cerimonia, eccolo assieme alle autorità, quindi il procuratore spagnolo, il prefetto Bruno, il sindaco Costa, il questore Bonfiglio e il vice capo della polizia Marangoni, che a margine ha ribadito la massima attenzione dello Stato verso questo importante presidio per le istituzioni e la legalità nel Vibonese, nella regione, in tutto il mezzogiorno. Nonostante ciò però sul futuro della scuola di polizia di Vibo Valencia alleggia ancora un grande punto interrogativo. La gente vuol sapere ma la scuola di Vibo Valencia chiuderà o non chiuderà? Beh, noi stiamo facendo delle valutazioni anche in relazione a quelli che sono gli arruolamenti dei prossimi anni e dobbiamo fare delle valutazioni molto serene come lo fa ogni padre, ogni mamma in famiglia. Quando le risorse che ha a disposizione possono non essere sufficienti a coprire tutti i bisogni, allora ci si deve guardare un momentino in tasca e fare dei conti. Io posso dire che in questo momento la scuola di Vibo Valencia non è sotto chiusura, non è che verrà chiusa nei prossimi giorni assolutamente. Certo stiamo facendo una riflessione generale su Vibo Valencia ma la stiamo facendo non solamente su Vibo ma anche su tutte le scuole. Per cui in questo momento penso che sia prematuro dire sì o no. E restiamo alle cronache di Vibo Valencia. PD sconfessato il capogruppo, la nomina all'epoca imposta ma gli altri volevano russo. Lo schiavo, ex candidato a sindaco ricorderete, vincitore delle prime del PD, poi battuto nel testa a testa al primo turno dal candidato del polo civico Elio Costa, viene smentito appunto sull'unità del gruppo, nessuno firma il suo documento, del servizio a firma di Francesco Mobilio. L'intervento è dell'analista Guido Preta sulla nomina di Giuseppe Mangialavori, quale coordinatore provinciale di Forza Italia, limiti e nuovi poteri. Mentre nella pagina successiva ecco il futuro della politica che avanza. Intanto l'intervento di Danilo Tucci, responsabile del settore ambiente di sinistra, ecologia e libertà, depositi costieri, danno e beffa, parla Tucci che sprona le istituzioni. L'Eni versa all'anno alla regione milioni di euro, ma nulla rimane nella frazione. Parliamo appunto di Vibbo Marina. Ed ecco un altro golden boy della politica Vibonesi, si tratta di Anthony Lobbianco, dirigente di Fratelli d'Italia, che apre al centrodestra e guarda al futuro del partito. Obiettivo, dice appunto Lobbianco, evitare gli errori commessi nel passato. E adesso andiamo avanti con le cronache catanzaresi, sempre dal quotidiano del sud. Catanzaro titola la sua vetrina di cronaca provinciale. I cinema riaprono in centro, c'è sinergia tra proprietà e associazione, poi si punta alla galleria commerciale. A metà novembre luce accese al comunale, poi toccherà al supercinema. Le cronache del Soveratese. Dopo all'ordine del giorno, quelle richieste ai consiglieri di minoranza, c'è attesa per il futuro consiglio comunale convocato per lunedì. Si tratta ovviamente il consiglio comunale di Soverato. La mezzia terme. Galati vince la sua battaglia. Magno attacca i transfugi e il passaggio dell'ex parlamentare azzurro tra le fila di Ala e il movimento di Verdini. hanno usato il partito come un taxi. Il parlamentare è il primo azionista della maggioranza al Comune. E ancora il crotonese. Gang dei furti. Nove a giudizio. Secondo l'accusa rubavano ferro e rame negli stabilimenti dismessi. Otto a processo per associazione a delinquere. Uno solo per ricettazione. Passiamo adesso invece alle cronache di Cosenza. Una statua per la gesta di Alarico. Il Comune vuole posizionarla alla confluenza di Crati e Busento realizzata dalla torinese Paolo Grassino verrà esposta entro Natale. Ancora tragedia dopo il part in casa. Oggi l'autopsia sul neonato. La procura indaga sul dramma di una famiglia di Fagnano. E ancora Brunella. Segnali sconfortanti. Missing. La donna scomparsa nei giorni scorso. Scorsi è stato rinvenuto il suo coltellino. Oggi il quinto giorno di ricerca è trovato in fondo a un dirupo. Il cestino della donna scomparsa sabato in Sina mentre era andata a cercare funghi. Sul Tirreno amante a scuola Bus per un solo alunno. La segnalazione del capogruppo belmontese Giancarlo Pellegrino. Da Belmonte Calabro al centro tirrenico. Diritto allo studio e spending review. E poi lo Ionio. Il territorio è tutto fuori controllo. Pianificazione urbanistica. La vera prevenzione. Urge la mappa dei rischi. A due mesi all'alluvione. Seconda parte dell'intervista al geologo Caracciolo. Andiamo ancora avanti con le cronache del Regino. Non secco alla scarcerazione. Respinto il ricorso di Mario Gennaro. Numero uno di Betunic. Si tratta dell'inchiesta Gambling. Ferma la motivazione del Tribunale. Impossibile la reiterazione del reato. Mentre in appello al processo Stupormundi. Processo antidroga su scala internazionale. Istruito dal procuratore Gratteri. Viene combinato un secolo di carcere. Anche in secondo grado. Passiamo invece adesso ai comuni della Tirrenica. Bagnara. Caccipuglio. Si muove la politica. Chiesto il mantenimento della strada interpoderale d'ingresso ai terreni. PD e Movimento Energia Pulita. Si rivolgono ai vertici del governo regionale. La grecanica. A merito portosalvo. A sed è comune ai ferricorti. Meduri presenta una denuncia. Nella Locride. Progetto di rinascita incorruttibile dopo l'inchiesta della DDA di Reggio Calabria e di Roma. L'inchiesta si tratta di Acero Crupi. Ecco il Consiglio su legalità e trasparenza. Nelle carte. Il nome di Fragomeni. La questione. È più politica che penale. Dalla Piana. Infine. Nuovo regolamento per gestire i beni confiscati alla mafia. Report del Comune. Le proposte di Scaletta e Papalia. Andiamo adesso a dare un'occhiata veloce alle cronache sportive dal quotidiano del Sud. Cronache ovviamente regionali. Crotone. Numeri da grande. Esclusa la parentesi di Cagliari. La squadra ha un rendimento strepitoso. Dieci punti nelle ultime quattro partite con dieci gol fatti. E la classifica tra l'altro parla anche chiaro con il Crotone in testa assieme a Cagliari e Cesena. Ad un punto di vantaggio. Appunto su un'altra grande il Livorno. Poi il Rende. Via la prevendita per domenica. Vigor. L'obiettivo è iniziare a fare punti. Ormai rassegnata la Serie D. La compagine Lamettina. Il Catanzaro. Per ciò che riguarda la Lega Pro. La crescita è lenta. La Regina aspetta invece i suoi attaccanti. Rene e Zampaglione restano ancora a secco. Il Cosenza invece inizia la fase 2. In avanti si punta sulla coppia Righini-Raimondi per cercare di scuotere l'ambiente. Rilanciare le quotazioni della compagine rosso-blu. Per quanto riguarda invece il calcio minore il personaggio della settimana. Una bella rubrica cura di Roberto Severino e Papaleo che si salta anche a Locri. Nelle ultime 54 partite in promozione ha realizzato 51 reti il bomber. Sempre a segno nelle ultime 4 giornate di campionato. E con questa notizia è davvero tutto. Si conclude il nostro TG Mattino. Appuntamento alle ore 13.45 per il nostro TG Giorno. Grazie per l'attenzione. A voi tutti. Una felice giornata. Amici di La Cina, una giornata di mercoledì che insieme a quella di giovedì saranno giornate di attesa, se vogliamo, di una fase di maltempo che interesserà il meridione d'Italia nel weekend. Cosa succede? Attualmente c'è una cupola anticiclonica, lo vediamo colorato in rosso, l'anticiclone subtropicale, quello che ha portato i 25 gradi in questi giorni, che si allontanerà verso sud lasciando l'arrivo sul metterraneo centrale dell'aria fresca. Lo vediamo colorato in giallo dai Balcani, diretta proprio sulla fascia adriatica. Questo determinerà un po' di variabilità tra mercoledì e giovedì. Ma insieme a una risalita dell'anticiclone subtropicale in direzione dell'Inghilterra e della Groenlandia, creerà i presupposti per una fase di forte stabilità che interesserà il meridione nella giornata di sabato e continuerà in maltempo poi anche sulla domenica, perché questa aria fredda verrà chiusa sul metterraneo centrale dalla risalita dell'anticiclone sulla sinistra dello schermo e quindi si creerà una zona di aria fredda che contrastando con l'aria associata all'anticiclone subtropicale che vediamo colorato in rosso, determinerà una forte instabilità appunto a partire da venerdì sera su Sicilia, Calabria e Sardegna. Ne riparleremo nei prossimi giorni. Passando ancora alla giornata di mercoledì, nello sguardo d'insieme vediamo prevalenza di i cieli coperti, nuvolosi, è una giornata di attesa con del maltempo che si configurerà prevalentemente sul nord-est, sulla fascia adriatica e in misura attenuata sul meridione d'Italia, fenomeni sul nord-est, Veneto, settore dolomitico, alto adriatico con una situazione di piogge sparse che disturberanno la giornata in traslazione verso est. Fascia adriatica più esposta a questa situazione di variabilità diffusa con temperature oltre la media del periodo e migliori invece la condizione sulla fascia tirrenica che vedrà prevalentemente una giornata nuvolosa in assenza di fenomeni. Situazione di variabilità invece latente al sud d'Italia con la Calabria che sarà oggetta di piovaschi sul settore tirrenico, questi sono gli effetti di quella perturbazione che ha portato pioggia nei giorni scorsi sul nord e sul centro Italia, rimane un'area di bassa pressione al sud associata a gli ultimi scampoli di una perturbazione che è interessata il nord-ovest nelle giornate trascorse e poi è figlia di quella che è dato maltempo sulla costa azzurra appunto nelle giornate trascorse. Fascia tirrenica più esposta, introterra, alto piano Silano, Pollino, alto piano delle sere con dei piovaschi nei momenti centrali della giornata. E' una situazione che poi proseguirà sulla Calabria nella giornata di giovedì in assenza di fenomeni ma con copertura nuvolosa che proverà da sud-ovest, dai quadranti meridionali sud-ovest e dalla Sicilia verso il Tireno e anticiperà l'arrivo di quella situazione di maltempo di cui parlava inizio collegamento atteso sulla Calabria tra venerdì sera e per tutta la giornata di sabato dove e sulla Calabria insisteranno forti temporali. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Rocco Notaro per gli amici di La C. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie.